Eccoci con Dino Breck, impressioni sul torneo, come stiamo andando? Difficile, stanco, più stanco qui che lavorare. Quanto hai adesso? 50 euro, stiamo nella mezza una strada due ore fa, quindi pariamo. Ci accontentiamo per ora. Poi vuoi seguire questa mano con Dino Breck, un tavolo? Vi ricordo che questo è il penultimo livello di giornata, siamo a 1200-200 di ante, un average build stack di 128.000 al momento. Ora, vediamo se ci sarà un po' di action su questo tavolo. Proviamo un raise al middle, anzi da hijack in realtà, Dino Breck molla il culo. Cerchiamo di andare a vedere anche altrove. Faccio vedere lo stack di Pagano e poi chiuderemo il video. Lo stack di Pagano che vi ricordo è attualmente a 300k, un ottimo stack, il doppio più o meno del Pagano del Pagano. Qui vedete anche Wix che invece gravita un po' più su, come vedete. E anche Alì Teka Tingak. Bene ragazzi, noi ci risentiamo per il prossimo video. Nel frattempo seguiteci su pokeritaliaweb.org Grazie. Grazie.